Non sono nel posto giusto? No, noi facciamo solo fra qui. Bastian. Giacomo, piacere. Sto girando l'Italia per raccontare la relazione tra uomini e piante e quindi tutto quello che riguarda anche l'artigianato. Piante, quindi sì. Esatto, quindi... In più ho una mamma e una sorella sarte. Questa è una lavorazione tramandata dalla mamma. È un'altra tramandata. E infatti la mia ricerca si concentra anche molto sul passaggio di sapere orale. Vedi quella villetta? Giù, dove c'è quel tappeto? Ci sono quelle persone aperte. Sì, buongiorno. Dovrei essere qua fuori da casa sua, se mi hanno segnalato bene. Sì, le sento già. Buongiorno. Prego. Sì, sì, hanno uole quasi tutte le case. Ah, ecco. Prego, quasi tutte le case i tappeti. Ok. I chimici sono forti, vivacissimi. Mentre quelli di Ebre sono tene e tene, proprio i colori della terra, i colori degli alberi. Noi facciamo anche il colore. Visto quando togliono il sughero da quel marrone bruciato, proprio dopo una settimana cambia colore l'albero. Ci troviamo a Nule, Nule è situato nel Gocceano, siamo a 750 metri e Nule vive di pastorizia e di tappeti. Quindi dalla lana al tappeto, cioè tosatura, cardatura e tintura. Adesso ti faccio vedere una tintura che si chiama feruletta, che sta appena nascendo adesso, quindi il colore non diventa molto forte come questo. Adesso viene leggero, cioè il colore viene chiaro perché quest'erba sta appena nascendo, è piccolina piccolina. Quindi ho bullito, l'ho cotta come che puoi, tu cuoci diciamo le vietole, solo acqua e l'erba. Metto l'aceto bianco, vedi il colore? Guarda, questa è grezza dalla filanda, lana di peccora al 100% grezza, proprio l'odore della peccora. Guarda, io l'immergio adesso. Te l'ho detto, il colore non viene tanto forte, perché è molto giovane. La vedi? Riesci a vedere il colore? Quindi adesso questa vuole bullita per un'ora. Quando è vecchia esce questo colore, vedi la differenza? Quando è tra giovane e meno vecchia esce così, cioè prima questo, poi questo, vedi? E il terzo è questo, che diventa più verde. Poi facciamo l'eufurbia, che la usiamo tanto, guarda, questo colore qui, in questo tappetto, vedi? Questo è il giallo, è di questo. E questa è l'eufurbia, che ha un fusto lungo, non so se la conosci, è le foglioline lunghe così. Quella che tinge non sono le foglie, sono il latte. Quando tu tagli, esce il latte, il latte, il latte. E quindi tu lo metti in un secchio, lo metti a mollo prima di... E tu vedi l'acqua, il latte. La metti a cuocere, quella fa in fretta a cuocere. Anche questa a me, fa in fretta, anche questa cuoce subito. E questa è lo stesso. E anche qui non ci vuole niente, solo aceto e sale. E ti esce questo colore, però, adesso esce così quando è vecchia la pianta. Quando è giovane ti esce chiaro a me. A seconda del tempo esce il colore. Vedi questo? È chiaro, chiaro. Poi ce n'è un'altra. Questa adesso non si può fare. Questa è l'edera. Siccome non si può tingere, perché ha i fiori? Quindi l'edera adesso no. Però vedi il colore. Questa è l'edera giovane. E questa è la vecchia. Quando la foglia è verde scura. E' bello. E ce l'ho qui un albero, non c'è bene, neanche mi sposto. Hai capito? Poi questo è l'alloro selvatico dell'albero. L'alloro selvatico. Per fare questo colore devi togliere la scorza dall'albero. Tu togli la scorza dall'albero. Questo 12 ore ci vuole accorgere. Questo tarda molto. E sarebbe questo. Quindi io faccio, qui ci vuole sale e aceto, e faccio questo colore. Però a me mi piace un marrone bruciato, quello che ti stavo dicendo della scorza dell'albero quando tolgono il sugar. Per fare questo colore, una volta fatto questo, io metto la cenere e la impano come una fettina. E mi esce questo colore. Questo è con la cenere. Le fa, le cambia il colore, la cenere e anche la fettina. Lo fissa. Poi le erbe cambiano il colore a secondo del tempo e del territorio. Noi prendiamo il sudruisco, che esce questo colore. Se lo prendi da Benetutti, che siamo a 4 chilometri, e ti esce un colore più sgargiante. Se lo prendi dalla parte di Bidi, che siamo a 25 chilometri da nulla, è un altro colore. E capito? Non è solo il periodo delle tinte, ma anche la località. Il tappeto di nulla è nato così, bianco e nero, naturale della peccora. E con le sanguessughe, quell'animaletto che mettevano qui per tirare il sangue quando avevano il mal di testa. Questo sanguessughe è un animaletto. Quindi se tu vedi, le sanguessughe sono quasi dappertutto. Nei nostri tappeti c'è una storia, perché ogni disegno è fatto per qualcosa che esiste. Sia nella natura, nella chiesa, perché mettevamo anche i calici. Questo disegno è Sabetteneda che usiamo per tessere. Questa è l'Emma di Maria che rappresenta la Madonna. Queste sono le montagne. Questo è il pizzo che si fa, sia nei mobili, sia nel corredo. E questo è Sistrazzata, cioè pezzettini che loro mettevano quando mettevano la topa ai pantaloni. Perché prima non è che buttavano. E si chiama Sistrazzata, pezzetti di topa che si mettevano. Tu dici i pollici storti. E questa è la balsa della gonna del costume. E' quello che ti stavo dicendo, che in ogni tappeto c'è una cosa che esiste. Capito? Che però appunto è un linguaggio che anzi pochi riconoscono. Esatto. Tu se non lo spieghi non riesci. Vedi questo, è tutto fatto di erbe questo. Vedi questo tappeto è fatto di erbe. Ti spiego anche questa cosa vuol dire. Questa prima di tutto ci deve essere in ogni inizio del tappeto per tenere i fili e per poter lavorare. Poi c'è un'altra cosa che ti indica il rovescio dal dritto. Vedi la trecina, il rovescio è qui. Tu giri il tappeto e la trecina non la vedi. Capito? Questo tappeto è dell'Ottocento. Cioè prima è nato così, poi è venuto questo. Questa è della bisnonna di mio marito. Vedi anche qui le sanguissure. Che le mettevano anche in ogni punto. Guarda anche qui piccoline. E vedi i colori. Loro usavano pochi colori. Il panna, il nero, il giallo e il colore dell'albero. Questi sono i colori della terra. Poi questo non so perché e hanno messo cotone. Forse o non ne avevano. Che sicuramente rappresenta il cielo questo. Loro ogni cosa è indicata a quello che esiste. O un albero che ha le bacche, fiore saucco. Il saucco. Sambucco. Sambucco. Esatto. Hai visto che ha le bacche scure, viola. E beh, con mia figlia l'abbiamo trovato. E' uscito un colore come ti posso dire un lilla. E poi quando le ha fatto il colore è andato via. E' rimasto poco poche. Perché devi sapere cosa fissi? Beh, hai visto la chimica? Usano l'acido per tingere e per fissare. E rimane così. Vedi, questa è tutta chimica, questa è chimica, questa è chimica, fii? Questa è chimica. Capito? Fii? Quindi questo è un tappeto alternato. Alternato, questo è alternato tra il moderno e l'antico. Questo è un disegno moderno, questo è un disegno antico. E quindi anche i colori qui. Qui anche i colori sono. Vedi, di erba c'è solo questo. Leoforpio. Abbiamo fatto i tappeti d'autore. Vedi, quello che sembrano tre bottiglie. Sono venuti gli artisti. Ci hanno dato il disegno. Noi l'abbiamo fatto. Però non è nulla. E' l'innovazione, diciamo. 12 erano. Perché questi disegni, queste elaborate, le dovevo fare solo chi era iscritta. Capito che era iscritta all'artigianato. Vedi. Qua. Queste le disegno a mia figlia. E sono uniche. Non trovi la seconda. Poi anche, aspetta, quest'anno ha realizzato il portamonetta. Piccolino con il tappetino. E piace molto quello. Ti dico la verità. Piace più questo che questo che più fastidioso. Questo ci vuole di più a farlo di questo. Questo lo vogliono vedere tutti. Ma molte volte viene e non è già fatto. Questo ci vuole due giorni a farlo. L'ho detto. Giù, giù. Giù, 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 giù vedi in ogni chiodo ci sono tre file questo è il pettine che noi usiamo usiamo il pettine e il puntariolo vedi che è intrecciato il file si 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 devono intrecciare altrimenti rimane buccato il tappeto più lo sbatti è meglio e non si deve vedere lo dito in appartamento non può essere lo sai